Signori prego Silvio Proto è della Lazio, quindi arriva il secondo acquisto nel giro di pochi giorni dopo il mezzo acquisto di Sprocati che era comunque già della Salenitana che è sempre di Lotito, lo ricordo ragazzi arriva Silvio Proto che è un portiere che farà il vice Stracoscia per chi non lo sapesse classe 1983, la cosa che mi ha colpito di Silvio Proto è che è basso, tra virgolette è 1,84 per un portiere è poco rispetto a Stracoscia che comunque è 1,95 è una cosa del genere però in media sono sempre sull'1,90, ma era solo una chicca fisica, una curiosità che mi ha colpito ha giocato un mucchio di stagione, una decina, adesso non ricordo precisamente, nell'Underleck ti fatti me lo ricordo in Champions, lo vedi giocare e ha giocato anche nell'Olimpico, nell'Olimpiakos nell'ultima stagione e la cosa che mi fa piacere è che è un portiere, si legge dal card di identità dell'83 quindi ha 35 anni praticamente, 34-35 anni e ha esperienza, ha esperienza sia in campo e campionati esteri però soprattutto in Champions perché comunque l'ha giocata e nella Lazio non ci sono tanti giocatori che vantano un po' di presenza in Champions, cioè c'è Leiva e pochi altri veramente, quindi bene bene, come secondo portiere era un tassello importante perché ragazzi sono credo che la società l'ha preso subito, almeno siamo sicuri che abbiamo un portiere affidabile come secondo portiere perché Vargic quest'anno non lo era e Stracoscia ha dovuto fare 50 partite e manco in Lazio Cittadella si è fidato di metterlo, quindi veramente è un acquisto importante, non è un acquisto, non è che ve lo devo dire io, non è un nome importante, è un acquisto che fa alzare i tifosi dalla sedia, però è un tassello in un ruolo fondamentale che è il portiere perché Metic si importuna a Stracoscia, eh, c'avevi Vargic quest'anno ce l'avevi nel culo e Guerrieri come terzo che lasciamo perdere, regà anche lui ormai non lo so cosa voglia fare nella sua vita, comunque vabbè, intendo mandiamoli presi in Serie B per starli a marcire, un ragazzo giovane italiano, comunque piccola parentesi, non ho visto le modalità di acquisto, cioè non ho capito, però comunque penso a costo zero anche perché a quelle tali costi praticamente zero e niente, sono contento, sono contento, ora spero che arrivino gli acquisti importanti, io spero in Laxalt, in Acerbi o comunque anche in un altro difensore, ma qualcosa, però per adesso la Lazio si muove, speriamo sprocati, ora pronto che ripeto un tassello importante in un ruolo fondamentale, signori seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto e alla prossima, daie, daie Lazio!